L'appello di Antonella Clerici, la preoccupazione per il benessere della sua amata figlia Maelle. Ciao e benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi vi parleremo di un momento toccante e importante trasmesso in diretta nazionale da Antonella Clerici riguardante sua figlia Maelle. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. In una recente puntata del popolare programma È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha colto tutti di sorpresa con un annuncio che ha commosso il pubblico. La conduttrice ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo al benessere di Maelle, sua figlia, spiegando apertamente le sfide che affronta nel bilanciare i suoi impegni professionali con le cure necessarie per la figlia. Questo momento sincero e toccante ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di Antonella come madre e professionista, mostrando quanto sia importante per lei garantire il benessere della sua famiglia nonostante gli obblighi lavorativi. Durante la trasmissione, Antonella ha sottolineato l'importanza di non trascurare le necessità quotidiane di Maelle, evidenziando il suo impegno nel garantire che la figlia riceva tutto l'amore e il sostegno di cui ha bisogno. L'appello di Antonella ha suscitato diverse reazioni nel pubblico, dimostrando quanto sia importante per molte persone vedere le figure pubbliche mostrare la loro umanità e la loro dedizione alla famiglia. Questo momento speciale ha generato un dibattito su come genitori famosi gestiscano le sfide della genitorialità, e su come possano trasmettere un messaggio di compassione e dedizione al pubblico. Cosa ne pensate dell'iniziativa di Antonella Clerici? Ditelo nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su altri momenti significativi e notizie emozionanti. Grazie per essere qui con noi. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campagna.